Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca. Tentò la rapina in un bar di Sulmona con il coltello. Il giovane moldavo che viene accusato di questo episodio resta ai domiciliari. I fatti risalgono allo scorso 5 novembre. Il servizio è di Andrea Daurelio. Resta agli arresti domiciliari il giovane di origine moldava fermato dalla polizia per aver tentato una rapina con il coltello nel bar di Via Sardi. Il gipere tribunale di Sulmona Marco Biglia di Rivero non ha convalidato l'arresto, venendo meno la fragranza del reato, ma ha disposto nel contempo la misura cautelare dei domiciliari per la pericolosità e la probabile reiterazione del reato. I fatti risalgono allo scorso 5 novembre. Il giovane si è presentato alle 6 del mattina nel locale, prima come cliente e poi come malvivente. Dopo aver consumato, aspettando che uscissero fuori dal bar tutti i clienti, si è coperto il volto e con un coltello ha minacciato il proprietario. Quest'ultimo non si è lasciato intimorire, tant'è che ha ferrato un altro coltello e ha costretto il giovane a darsi alla fuga. In un primo momento il proprietario del locale non ha avvertito le forze dell'ordine. Gli uomini della squadra anticrimine del commissariato di Sulmona, coordinati nell'operazione dall'ispettore superiore Daniele Erario, sono intervenuti in un secondo momento, dopo aver intercettato la segnalazione di una tentata rapina al bar. Da lì sono partite le indagini, con l'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato nel locale di Via Sardi. Per identificare il giovane, i poliziotti hanno avviato una ricerca nelle banche dati e sulla rete sociale di Facebook, e seguita la perquisizione domiciliare a casa del ragazzo, dove è stato rinvenuto il coltello utilizzato la mattina al bar. Il giovane dovrà ora scontare gli arresti domiciliari per tentata rapina aggravata. Mucche in aree ristrette, invase dall'etame in situazioni di sovraffollamento, con tanto di vitellini anche di soli 20 giorni. E quanto hanno accertato i carabinieri del NAS di Pescara durante una serie di controlli in tre allevamenti di bovini da latte ispezionati nella Marsica. In collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL è stato disposto il divieto di movimentazione di 110 bovini, il divieto di conferimento del latte in attesa di accertamenti analitici, la movimentazione dei vitellini in sovraffollamento e il ripristino delle condizioni igieniche. I controlli erano finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie identificative dei capi, del corretto trattamento medicale, il trattamento e lo stato del benessere animale. Le situazioni di criticità sono state riscontrate in particolare in un allevamento. Oltre alla sporcizia e agli spazi ristretti, nei locali è stata accertata l'assenza di rivestimenti lavabili e ossidazione delle tubazioni e degli utensili del latte. Adesso ci occupiamo del Denino Morandi di Sulmona che torna nella morsa del degrado. Residenti e commercianti gridano allo scandalo. Sentiamo nel servizio di Andrea Daurelli. Finestre aperte, erba che cresce fino a formare in alcune zone una vera e propria foresta, detriti abbandonati e un vano tecnico del seminterrato allagato. E il reportaggio dell'istituto sul monese Denino Morandi che torna nella morsa del degrado e dell'incuria. A segnalarlo sono i residenti e gli esercenti della zona con tanto di macchina fotografica alla mano. Un dossier che mette in evidenza come l'edificio di Via d'Andrea finito a ottobre del 2014 al centro di un'inchiesta giudiziaria per presunti lavori sbagliati post-sisma vive uno stato di completo abbandono. Non vorremmo mai che questi siano i segni premonitori della cancellazione della scuola, tuonano abitanti e commercianti. Non molti mesi fa la provincia dell'Aquila si era fatta carico di ripristinare ordine e decoro nel cortile del Denino Morandi con il taglio dell'erba, ma nel giro di pochi mesi l'incuria torna a farsi vedere destando polemiche e preoccupazioni sulla sorte del plesso scolastico. In notizia di ieri intanto che il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis ha ottenuto il via libera della procura della Repubblica dell'Aquila per l'accesso temporaneo all'edificio. De Crescentis ha chiarito che l'ente provincia con un decreto dello scorso 13 maggio ha manifestato la volontà politica di restituire la scuola alla città di Sulmona. Si prevede in effetti un'articolazione dei lavori in due lotti funzionali al fine di consentire una progressiva ripresa dell'attività didattica nell'edificio di Sulmona in funzione anche della futura risoluzione delle vicende giudiziarie in essere. A riaccendere i riflettori sul futuro del Denino Morandi è stata la consigliera comunale di Forza Italia Elisabetta Bianchi. Nient'altro che fumo le parole del presidente De Crescentis. La pubblica amministrazione parla con gli atti e decorso tutto questo tempo ci saremmo aspettate di sapere almeno a che punto è la progettazione e la consistenza dei fonti disponibili. Intanto il sito versa nel completo degrado inaccettabile continuare così fa sapere la Bianchi a giorni nel frattempo dovrebbero tornare a riunirsi i comuni di Sulmona provincia dell'Aquila e dirigenza scolastica del polo scientifico tecnologico. L'Aula del Senato ha dato il via libera all'istituzione di una commissione di inchiesta sulla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila del 2009 i sì sono stati 172 nessun no e due astenuti. Si tratta di una commissione monocamerale e avrà il compito di indagare sulla gestione delle risorse sulla regolarità dei lavori e degli appalti sulle misure di sicurezza sulla successione delle ordinanze. spese minori e tempi più snelli la Asla Avezzano Sulmona L'Aquila cambia strada per portare avanti l'operazione sicurezza dell'ospedale di Sulmona edifici in affitti piuttosto che i container dal momento che dopo i ripetuti eventi sismici le richieste per i moduli prefabbricati sono schizzate alle stelle. Con questa soluzione contiamo di arrivare al trasferimento degli ambulatori entro febbraio inoltre aspetto importante disporre di un fabbricato anziché di container e sicuramente molto meglio per lo svolgimento di prestazioni sanitarie sia per gli utenti sia per il personale quanto fa sapere il direttore generale dell'Asl Rinaldo Tordera. Approfitto dell'arrivo a Sulmona del Ministro Del Rio e del Governatore D'Alfonso per un convegno sulla sicurezza sismica nelle aree interne per rivolgere ai due autorevoli esponenti dei governi nazionale e regionale l'invito a bloccare definitivamente il progetto Toto sull'A24 a 25 tutt'altro che accantonato come dimostra la recente audizione in Senato dell'amministratore delegato Ramadori e a impegnare il loro peso politico per impedire un'opera importante come il metanodotto con la relativa centrale di compressione in zona casepente quanto afferma la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato Paola Pelino alla vigilia appunto della visita in città del Ministro del Rio e del Governatore D'Alfonso visita prevista nella giornata di domani per un convegno sulla sicurezza sarebbe un segnale tangibile di comprensione dei rischi che questi progetti comportano in un'area sismica come la Valle Peligna ampiamente illustrati e dibattuti e non solo negli ultimi tempi prosegue la senatrice Pelino sono certa conclude che il territorio gradirebbe dal Ministro e dal Governatore una presa di posizione chiara il successivo impegno a tramutarla infatti nei luoghi della decisione gli esercenti non ci stanno lavori rimandati in via Dorrucci a Sulmona la ditta era pronta per partire con gli interventi sul manto stradale questa mattina se ne riparlerai invece a febbraio 2017 il servizio è di Andrea D'Aurelio nemmeno il tempo di mettere le transenne che la ditta che doveva eseguire i lavori di rifacimento del manto stradale in via Dorrucci ha dovuto chiudere baracche e burattini la decisione è arrivata di comune accordo con il comune di Sulmone i commercianti della zona e l'associazione Piazza Garibaldi che hanno convenuto di poter procrastinare gli interventi nel mese di febbraio è la quinta volta che si chiude la strada i lavori vanno eseguiti ma scegliere quest'arco temporale è un danno per le attività commerciali incalzano gli esercenti innanzitutto perché il periodo natalizio è molto importante per i negozianti non solo per me ma per tutti i negozianti di via Lopoldo Dorrucci e della piazza cioè è una festa che aspettiamo per 11 mesi l'anno ci nuoce non possiamo avere i lavori per due mesi qua fuori il periodo natalizio che questo non sia il momento più adatto per avviare i lavori lo conferma anche l'assessore lavori pubblici del comune di Sulmona Mario Sinibaldi la ditta ci aveva assicurato di portare a termine il programma degli interventi in tempi brevi ma di fatto corriamo in rischio che si vada a coincidere con il periodo prenatalizio fa notare Sinibaldi se ne riparlerà a questo punto per febbraio 2017 tornino a Sulmona tutti i nati nel 1966 perché presto ci sarà il mega raduno dei cinquantenni con il sindaco Anna Maria Casini che sarà a capotavola sentiamo tutto un mega raduno per festeggiare tutti insieme il mezzo secolo di vita questo è il senso della rimpatriata dei cinquantenni sulmonesi che si danno appuntamento al prossimo 10 dicembre presso il ristorante Legginestre di Rocca Casale aggregazioni e allegria saranno il filo conduttore della serata che chiamerà raccolta tutti i nati del 1966 un'idea che è venuta a tre sulmonesi Giuseppe Bono Roberta del Monte ed Enrico La Civita raccolta immediatamente da sindaco Anna Maria Casini anche lei cinquantenne che siederà a capotavola in un momento dove si perde la forza di stare insieme e incontrarsi la festa dei cinquantenni assume inevitabilmente un significato per festeggiare mezzo secolo gli organizzatori hanno pensato a una scena a modi conviviale con un aperitivo all'ingresso il costo è di 35 euro si può lasciare la propria prenotazione direttamente al ristorante o contattando gli organizzatori la caratteristica della serata vuole essere quella dell'incontro approfittando le ponte dell'Immacolata l'auspicio e anche quello di rivedere coloro che nel corso dell'anno sono sparsi in tutta Italia spiegano i tre per il sindaco Casini si tratta di una festa che richiamerà non poche persone all'affetto della propria terra nel ricordo della gioventù appuntamento al prossimo 10 dicembre con una mega torta da 50 candeline adesso per lo sport ci occupiamo di tiro a segno perché nello scorso fine settimana si è svolto il diciottesimo trofeo nazionale città di Sulmona lo ha seguito per noi Gaetano Trigilio che ci riferisce in questo servizio nel poligono di tiro a segno in via trattura a Sulmona nei giorni 5 e 6 novembre si è svolta una gara ad estensione nazionale denominata trofeo città di Sulmona giunto ormai alla diciottesima edizione armi ammesse carabina 10 metri pistole 10 metri la manifestazione sportiva è stata organizzata dalla sezione di Sulmona il TSN tiro a segno nazionale associazione sportiva direttantistica in collaborazione con il comitato regionale Abruzzowicz l'Unione Italiana tiro a segno la gara era riservata ai tesserati ecco i vincitori delle varie sezioni di gara primo assoluto tiro con carabina Marco Ghini della sezione di Siena già campione italiano primo assoluto tiro con pistola Maurizio Manari della sezione di Teramo prima fra le donne Alessia Capitanio sezione di Teramo prima donna carabina Cristiana di Rocco sezione di Roma ai primi assoluti sono stati consegnati addirittura dei prosciutti altri premi sono stati assegnati ai vincitori delle altre categorie Marco Ghini campione italiano del tiro con la carabina ma anche altra partecipata ai campionati europei per 12 anni sono stato in nazionale sono stato inserito in nazionale quindi ho partecipato a 10 edizioni dei campionati europei a un'olimpiade militare a vari campionati del mondo militare a tre campionati del mondo il primo a Stavanger in Norvegia il secondo a Milano e il terzo a Lasi in Finlandia nel 2002 poi nel 2005 ho concluso la mia attività ad agonista si tratta di un evento importante che la direzione nazionale WITS e il comitato regionale Abruzzo hanno inteso affidare alle sezioni sul Mona in considerazione della validità della struttura sul monese e la preparazione e qualificazione del gruppo dirigente e organizzatore oltre un centinaio di partecipanti a numerose sezioni che hanno dato vita ad avvincenti serie di gare nell'arco delle due giornate Pescara Lanciano Sulmona Teramo L'Aquila Chieti Roma Veroli Siena molta allegria grande soddisfazione ed amicizia al momento della cerimonia di premiazione alla presenza di consiglieri nazionali Riccardo Mariani e Cristiana Di Rocco il presidente della sezione di Sulmone che ha organizzato l'avento Antonio litigando di responsabile del comitato regionale colonnello Antonio Di Rocco Vedere un mondo in pieno movimento con il lavoro che fanno in sezione è davvero entusiasmante Siamo tutti soddisfatti di come è entrato l'andamento della gara abbiamo superato le 100 unità abbiamo superato il pundeggio e il numero dell'anno scorso meglio di così non poteva andare sono venute da altre sezioni molto di più di quelle dell'anno scorso come tiratore e come presidente regionale sono molto soddisfatto di come è andata l'andamento della gara Sul posto è stato allestito un punto di ristoro gratuito per tutti i partecipanti organizzato e gestito dal gruppo Alpini AN Associazione Nazionale Alpini sezione di Sulmone Stiamo facendo un'esercitazione di allestimento di un punto ristoro per conto della protezione civile quindi non è che stiamo qui solo per dare una mano al poligono di tiro che è una delle eccellenze come poligono di tutta l'Italia e fa onore a Sulmone grazie al suo presidente il maggiore Tonino Litigante e agli altri suoi collaboratori E adesso conosciamo la disciplina del Pump Drac ovvero la bici da cross a Sulmona è possibile praticare questa disciplina grazie ad un apposito campo attrezzato vediamo dove nel servizio curato da Gaetano Trigili il ciclismo non cessa mai di stupire con tutte le discipline che può oprire agli appassionati della bici in questo caso la mountain bike a Sulmona accanto allo Sport Village è stato realizzato un campo particolare che in qualche modo somiglia ad un campo di motocross piccoli dossi cunette ed altro per la soddisfazione di chi riesce a cavalcare con disinvoltura una mountain bike ma queste esercitazioni in una disciplina forse nuova e particolare forse per la prima volta a Sulmona servono a chi pratica lo sport del motocross o a chi vuole fare al meglio del fuoristrada in bici vediamo come i ciclisti si muovono su questi dossi non molto facili in verità si tratta comunque di una disciplina impegnativa in gergo denominata pump track infatti i ciclisti che vediamo scorazzare sul campo di esercitazione sono guidati da ben 4 istruttori della federazione ciclistica nazionale loro sono dei biker sono fondamentalmente persone che vanno in mountain bike sia con finalità agonistiche e sia con finalità ludico quindi escursioni sono persone che hanno deciso di mettersi in gioco per migliorare il loro modo di andare in mountain bike quindi per rendere più sicure e divertenti le loro uscite questi sono esercizi che sviluppano alcune capacità fondamentali del ciclismo fuoristrada come la centralità la capacità di sfruttare il proprio corpo per andare meglio in mountain bike e quindi insieme stiamo formando questo programma che prevede una fase di miglioramento della tecnica di guida e una fase anche di condizionamento di capacità di allenamento fondamentalmente infatti questo programma è articolato in 5 moduli il primo modulo di preparazione il secondo modulo sul pump track un modulo in palestra di allenamento funzionale ed altri due moduli di sviluppo sul circuito quindi sulle piste di mountain bike che si tratti di un'effettiva disciplina ciclistica affiliata alla federazione italiana lo dimostra la presenza di Fernando Ranalli presidente provinciale della federazione questo ci permetterà di sviluppare il ciclismo giovanile perché questo è l'unico modo per poter avvicinare i ragazzi a praticare lo sport e il ciclismo in genere BMX mountain bike e biciclismo su strada perché qui sono sicuri imparano bene ad andare in bicicletta dopodiché possono andare anche su strada oggi è la prima volta che sperimento un campo un pump track è bello difficile nonostante sono tanti anni che vado in mountain bike mi rendo conto quanto c'è da migliorarsi in un percorso del genere ci sta veramente faticoso perché è veramente faticoso e poi con i ragazzi che sono bravi veramente messi a disposizione un campo del genere è una una bella risorsa per noi che vogliamo imparare ad andare bene in bicicletta ci auguriamo soltanto che presto questo campo creato da un solmonese Luca possa diventare un vero campo agonistico ma come è nata l'idea di realizzare un campo di questo tipo per passione per creare un qualcosa anche nella zona visto che non ci sono strutture del genere per praticare o per migliorare la guida sulla bicicletta particolarmente nel fuoristrada e ci appoggiamo ad istruttori qualificati a livello nazionale appunto per creare un movimento anche in questa zona e adesso è giunto il momento della nostra rubrica buon appetito per conoscere il piatto del giorno vediamo A presto La ricetta che vi proponiamo oggi è quella della zuppa di cardi, ecco gli ingredienti che vi occorrono, un cardo di media grandezza, 2 litri di brodo di cappone o di tattino, fegatini di pollo, formaggio grattugiato, 3 uova, 2 limoni, farina, sale, pepe, 300 grammi di carne di maiale tritata. Passiamo ora alla preparazione, pulite accuratamente il cardo, fatelo a pezzettini e lasciatelo in acqua fredda con il succo di limone per eliminarne il tipico gusto amarognolo, successivamente lessatelo con acqua e succo di limone. Passate il cardo al colino, bagnate con acqua fresca e aggiustate in un tegame di creta unendo sopra uova sbattute con cacio grattugiato, sale, pepe e brodo di carne magro unitamente a piccole polpettine di carne colorite in padella con infecatelli di pollo tritati. Portate in tavola con crostini fritti, cacio e un buon bicchiere di vino cerasuolo. Buon appetito! Puoi trovare le ricette della rubrica Buon appetito sul sito www.ondatv.tv e sul nostro canale YouTube. Adesso ci occupiamo di arte, ce ne andiamo al Media Museum di Pescara dove è stata allestita una mostra dell'artista Guido Giancaterino, uno dei maggiori pittori abruzzesi. Vediamo. Siamo al Media Museum di Pescara in piazza Alessandrini, una location d'eccellenza per una mostra molto interessante dal titolo Il volto felice della creatività del maestro Guido Giancaterino. Ne parliamo col curatore di questa mostra, Dante Marianacci. Guido Giancaterino, tutti lo sanno, è uno dei grandi maestri della pittura abruzzese, pescarese, ma ha avuto anche riconoscimenti da fuori dall'Abruzzo. Questa mostra è un'antologica in assoluto la sua più ricca, che raccoglie lavori in tutte le tecniche, perché Giancaterino si è espresso in molte tecniche pittoriche, sono più di 120-130 dipinti che documentano in qualche modo la storia, l'itinerario creativo di questo maestro dal 1955, anno in cui partecipò alla prima mostra di Macerato in sé primo premio fino ai giorni nostri. Sono opere che esprimono il volto felice della creatività. Che cosa vuol dire? Il titolo della mostra, ma anche del catalogo molto ricco che l'accompagna, vuole in qualche modo esprimere l'aspirazione a cui tende l'opera di Guido Giancaterino, che è un'opera che esprime anche momenti di tristezza, contraddittori, di forte travaglio interiore, ma aspira sempre alla serenità, alla bellezza, la bellezza come fine ultimo della sua creazione. Infatti i quadri che io prediligo, ma tutti sono belli, sono quelli in cui i suoi colori prediletti, cioè i bianchi e i rosa, si amalgamano molto bene ed esprimono proprio questa aspirazione ad essere sereni, a vincere contro il male. Partono oggi a Sulmona i concerti del giovedì della Camerata Musicale Sulmonese, una nuova iniziativa che, ripetiamo, verrà inaugurata oggi pomeriggio alle 17.30 nella Sala Azzurra di Palazzo dei Sardi, sede della Camerata Musicale Sulmonese. Ci sarà dunque il primo appuntamento della nuova rassegna, i concerti del giovedì dedicati alla musica da camera. Una rassegna da otto concerti che ci accompagnerà fino a febbraio, si legge in una nota della Camerata Musicale Sulmonese. Ospite di oggi il pianista Davide Dicenzo che presenterà un programma con musiche di Beethoven e Chopin. I biglietti saranno in vendita prima del concerto a partire dalle 16.30. Anche il Panathlon Club di Sulmona scende in campo a favore dei terremotati del centro Italia. Il Panathlon ha organizzato una conviviale in beneficenza per il prossimo 17 novembre. Appuntamento all'hotel-ristorante-meeting per una conviviale pro-teremotati. Per i soci il costo sarà carico del club, mentre per ciascun ospite il costo sarà di 18 euro. Informa una nota del Panathlon Club di Sulmona. Più ne saremo e più denaro devolveremo, sostiene il presidente del club sulmonese Francesco Paolo Scelsi. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Non ci sono altri aggiornamenti, ma prima di concludere definitivamente dobbiamo vedere i film in programmazione alla multisala Igioland di Corfinio. Che vuoi che sia, con proiezioni alle 18 e alle 21 e 10. Non si ruba a casa dei ladri con proiezioni alle 21 e 10, mine alle 18 e alle 21. È veramente tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata a tutti voi. Sulla nostra regione condizioni di cielo nuvoloso con residui e annuvolamenti lungo la fascia costiera, occasionalmente associati a precipitazioni più probabili nel vastese. Schiarite via via sempre più ampie sul settore occidentale, tuttavia la tendenza è verso un nuovo peggioramento ad iniziare dalla nottata e nella mattinata di domani, nevicate sui rilievi al di sopra dei 1700-1900 metri. Temperature generalmente stazionarie ma lievamente al di sotto delle medie stagionali, venti deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera con occasionari rinforzi, occidentali altrove in rinforzo in nottata e nella giornata di domani. Mare generalmente mosso.